Voi capite che sì, si può trovare anche il capo espiatorio della situazione attuale nel superbonus, ma anche lì se parliamo di dati certificati, la Guardia di Finanza ha certificato che dal novembre 2021 a oggi le truffe dal superbonus sono 860 milioni. Potremmo aggiornarli adesso qualche ultimo dato di poco, ma quindi stiamo parlando dello 0,5% rispetto all'ammontare dei crediti fiscali da superbonus, queste le truffe. Poi se parliamo di irregolarità, cioè di crediti sottoposti a certificazione e via discorrendo, può aumentare questo dato, ma noi ci atteniamo a dati ufficiali con questa platea. Di fronte a tutto questo il governo che ha fatto?